Questo è lo spettacolo unico che garantiscono le biciclette, il monti e perché no, l'organizzazione Xyne, ore 9.15 No, l'organizzazione Xyne, ore 9.15 No, l'organizzazione Xyne, ore 9.15 No, l'organizzazione Xyne No, l'organizzazione Xyne, ore 9.15 No, l'organizzazione Xyne, ore 9.15 As long as I can feel about me But I don't need no money As long as I keep dancing Baby, I don't need that love And I'll tell you how fun tonight Baby, I don't need that love And I'll tell you how fun tonight I don't need no money As long as I can feel Solo Bike si conferma una volta Una tra delle società più competitive Nella ciclocross Anche oggi al primo posto Quindi grande soddisfazione Sì, oggi veramente Un primo posto inaspettato Perché non siamo riusciti A schierare tutta la formazione Però i ragazzi qua danno battaglia Veramente anche un po' striminziti Oggi abbiamo portato il primo posto a casa E ci riconfermiamo sicuramente Una delle squadre in questo momento In questo momento più forte Del campionato di ciclocross Per l' gentile E ci riconfermiamo sicuramente